Uomini e donne news e anticipazioni, Luigi e Lorenzo si contendono Sara Affifella ultime news e anticipazioni dal mondo di uomini e donne. Il 19 marzo 2018 è stata registrata una nuova puntata dedicata al trono classico. Possiamo quindi raccontarvi tutto quello che è successo tra Sara Affifella e i due corteggiatori restati in studio per lei. Avrete visto che Lorenzo Ricciardi aveva deciso di lasciare il programma, abbiamo visto il suo abbandono nella puntata in onda ieri. Ma in realtà dopo la puntata di Uomini e donne del 19 marzo, ci sono state altre due registrazioni, una la scorsa settimana e una ieri. Per cui al momento Sara Affifella è rimasta in gioco con due corteggiatori, Lorenzo e Luigi si contendono la bella tronista che trova in entrambi qualcosa di speciale, uomini e donne news e anticipazioni. Esterna con parole importanti per Lorenzo che si dichiara sempre di più a Sara dopo aver deciso di tornare in studio per corteggiare Sara, Lorenzo ha scelto di fare delle cose importanti per lei. L'esterna della puntata di Uomini e donne registrata il 19 marzo si svolge al mare. Lorenzo porta a Sara delle bottiglie che contengono delle parole e delle frasi. Inoltre c'è per lei anche la canzone di Giovanni Caccamo che parla di un amore eterno. Parole importanti ma Lorenzo non si vergogna a dire che prova determinate cose per la tronista che chiama anche, amore mio? A Sara queste attenzioni fanno piacere ma in qualche modo la spaventano perché non sa se fuori da un programma televisivo a lei possa piacere un ragazzo come Lorenzo. Il corteggiatore comunque si dichiara a lei e le dice anche di essere felice per il fatto che il papà di Sara abbia suggerito di non baciare più nessuno. Rispetterà anche lui questa volontà. Sara commenta di nuovo l'esterna in studio dicendo che non sa se davvero Lorenzo ha un carattere che a lei piace e il corteggiatore le spiega che insieme potranno smussare le cose che non funzionano per migliorare. Uomini e donne news e anticipazioni, Sara litiga con Luigi che resta e non va via sono tante le anticipazioni che circolano sui social in merito alla registrazione di Uomini e Donne del 19 marzo 2018. Come saprete sul sito di Uomini e Donne non vengono più pubblicate le anticipazioni per cui non è semplice capire cosa sia successo realmente oppure no. In ogni caso sembra che Sara e Luigi si siano incontrati per una esterna dichiarimento in camerino durante la quale hanno discusso. Quello che abbiamo capito non c'è stato poi nessun altro incontro tra i due anche se Luigi ha spiegato di voler restare nel programma perché ci tiene a Sara e vuole ancora dimostrarle quello che prova per lei.